Questo è un Eurospad a 1500 metri quadrati, è il format sicuramente al momento più performante della nostra azienda. Si differenzia per un assortimento dei freschi molto vasto, che è il nostro punto di forza principale. Abbiamo dedicato tanto spazio ai prodotti locali, sia per quanto riguarda i freschi, sia per quanto riguarda lo scatolame. È uno dei punti importanti su cui stiamo lavorando. Altra cosa importante e fondamentale che stiamo spingendo a tanto sono i nostri prodotti premium, che sono il nostro biglietto da visita sulla qualità che riusciamo ad esprimere nei nostri prodotti. Abbiamo aperto qui a Lugo perché è un comune importante in provincia di Ravenna, un comune che meritava la nostra attenzione, una zona che rischiava abbandono e degrado e quindi siamo intervenuti investendo per fare un nuovo, bello e moderno Eurospad. Stiamo investendo perché crediamo nella bontà della nostra attività sul territorio, nella qualità delle nostre persone e dei nostri prodotti. Investiamo perché c'è margine di crescita, perché c'è entusiasmo e quindi vogliamo continuare a crescere in questa regione. Abbiamo iniziato appunto un nuovo progetto andando incontro alle esigenze del cliente e facendo prodotti appunto fatti da noi, facendo sentire al cliente un prodotto più casalingo. Sono prodotti, sì, della tradizione, della nostra tradizione e diciamo che l'intento è quello di far sentire il cliente a casa. Quindi abbiamo una grandissima selezione di salumi, abbiamo preso il meglio da ogni zona, abbiamo dato valore al territorio e sicuramente i clienti se ne accorgeranno. I nostri addetti sono formati su questo e sono pronti a consigliare qualsiasi prodotto. Vi aspettiamo! Veniteci a trovare! L'inominazione LED che praticamente utilizziamo dappertutto perché abbiamo un grossissimo risparmio energetico e poi utilizziamo un grosso risparmio energetico dai banchi frigoriferi che recuperiamo il calore per utilizzarlo in riscaldamento e climatizzazione. Abbiamo parcheggi attressati per ricariche auto elettriche, bici elettriche, abbiamo anche fatto una parete verticale vegetale per recuperare il CO2. La squadra è composta da 40 collaboratori. Sono 40 collaboratori principalmente abbiamo puntato sui reparti freschi, quindi macelleria, gastronomia, pescheria e l'ortofrutta appunto che è servita. La squadra di questo nuovo Erospar è una squadra molto giovanile, in prevalenza sono donne. Subito già dai colloquio è emersa la voglia di avere la nostra insegna sul territorio.